Niente corse per le Ega di stamattina dai mezzi dell'Ustica Lines che sono rimasti ormeggiati nelle banchine del porto di Trapani. E naturalmente non sono mancati disagi. Le uniche corse sono state quelle della Siremar con cui l'Ustica Lines ha stipulato un accordo per venire incontro ai propri abbonati staccando dei biglietti speciali con cui i passeggeri si possono imbarcare sull'aliscafo dell'altra compagnia senza ulteriori costi. Naturalmente con meno corse e mezzi in servizio non sono mancati disagi anche per quel che riguarda le attese in banchina visto che molte fasce orarie sono rimaste scoperte. Insomma una situazione poco felice per residenti e pendolari oltre che per i turisti che già in questo periodo decidono di visitare l'arcipelago. Ustica Lines e Regione Siciliana restano ferme sulle loro posizioni. In una nota diramata ieri sera a riprova del fermo la compagnia del comandante Vittorio Morace ha rimandato la decisione all'atteggiamento della Regione Siciliana che ad oggi, si legge nel testo, continua a non volere stipulare i contratti nemmeno alle condizioni da essa stessa indicate. La compagnia ha chiesto alla Regione di firmare i contratti e di pagare l'85% di quanto dovuto rinviando ad un successivo contraddittorio la verifica della infondatezza della pretesa riduzione del 15%. E naturalmente oltre ai disagi per le comunità delle isole minori ci sono i risvolti occupazionali. A rischio ci sono 400 posti di lavoro. Domani si dovrebbe tenere un incontro con i sindacati per discutere della situazione del personale che sta vivendo ore di forte apprezzione come confermato questa mattina in banchina dai marittimi imbarcati sugli aliscafi. Siamo qua in Ermi che sappiamo che fra poco tempo siamo senza il nostro posto di lavoro e che allo stato attuale come marittimo italiano posso dire che non abbiamo tante altre possibilità. Quindi oggi finiamo qua ma non sappiamo se possiamo riniziare da un'altra parte. L'azienda, le prospettive future che ci ha trasmesso l'azienda è quello che se non si risolve questo problema l'azienda non ha intenzione di continuare quindi ci ha riversato che il problema è abbastanza serio non è un gioco, non è una forzatura, è una cosa reale che l'azienda senza i contributi da parte della regione Sicilia non può sostenere le spese per effettuare le linee nei prossimi giorni e nel prossimo futuro. In fermento è anche il mondo politico. L'avvertenza Austica Alliance ieri approdata a Palazzo Madama con i parlamentari trapanesi che hanno acceso i riflettori sulla emergenza trasporti con le isole minori siciliane. La senatrice Pamela Orru è intervenuta durante la riunione della Commissione Lavori Pubblici sollecitando nell'intervento e chiedendo di sentire in audizione i protagonisti di questa vicenda a partire dall'assessore regionale Pizzo. Il senatore Antonio Dali ieri sera a fine seduta ha preso la parola in Senato scagnandosi contro il governo regionale chiedendo a quello nazionale di attivarsi subito per garantire la continuità territoriale con le isole. Presa di posizione anche dal senatore Maurizio Sant'Angelo che ha presentato una interrogazione urgente al ministro delle infrastrutture soffermandosi anche sugli aspetti che rimandano ai risvolti occupazionali della vicenda oltre che sul danno economico per le comunità isolane.